Grazie a tutti. Per la batteria numero tre, Anna Segoni in corsia uno, Francesca Mestrori in due, Valentina Causini in tre, Maria Macek Sittani in quattro, Giulia Salvatore in cinque, Ginevra Matassa in sei, Lisa Boschini in sette, Agatha Gortenuti in corsia otto. Ammessi alla finale due stile ragazzi in secondo e terzo anno, Massimo Chiarioni, Isacco Danieli, Niccolò Tocco, Andrea Polo, Tommaso Petruzzi, Nicolás Bottoli, Samuele Spadetto e Simone Silveri. Ultimo tempo due, uno e ottantaquattro. Grazie. 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 Emi Bessega due tredici e ottanta tre si aggiudica questa seconda batteria